Ho deciso proprio di non parlare a Traiusi, invece di parlare con me possiamo parlare con tutti gli altri e tutte le cose che verranno dette in questa festa, perché sennò divento io il centro di tutto. Io mi sembra di averlo già spiegato varie volte che preferisco essere un po' riservata nelle cose, quindi per favore, dai, non è... sennò faccio l'onerevole, faccio il deputato. Però il ruolo del partito ce l'ha. Ma è un ruolo organizzativo, perché in ora siamo stati defilati, nel momento in cui lei ha un ruolo politico, noi perlomeno ci proviamo, ecco. Ma per carità, ma io non è quello di... Un ruolo organizzativo, diciamo, organizzare tutta questa cosa non era una cosa... Ma non lo facevamo, lo faccio già da circa... No, rispetto alle altre. Insomma, noi abbiamo fatto diverse stagioni di Atreio, immagino che voi lo ricordiate, insomma. Sono state stagioni tutte importanti, quindi insomma non è la prima che organizziamo, non è tantomeno è la prima che organizzo io. Ne abbiamo fatte tante, penso che lo sappiate, insomma. Musk, Sunak, Pascale, insomma anche il parterre, cosa dice l'Infruttore d'Italia? Insomma, qualche anno fa era anche quello difficile immaginarsi, il parterre del genere, ok? Beh, insomma, abbiamo sempre avuto un parterre molto importante, ci sono sempre stati capi di governo, insomma lo ricorderete anche voi, da quelli italiani a quelli stranieri, è sempre andata così. Senta, io faccio un po' la voce cattiva, c'è una polemica, che è quella su Abba Scal, che ha fatto un riferimento a Piazzale Loreto parlando di Sanchez, non le sembra inopportuno averlo qui? Quelle parole non meritano di prendere la distanza. Eh, grazie, basta, a un posto, vai, ti salvo io che sono quello che... Adesso il mio marito quando ha risposto alla question time, mi sembra una vicenda chiarissima, io sono stata fiera che si sia trovata una soluzione per scendere in un posto dove lo aspettavano. La popolazione di Caivano da tanto tempo sotto un'acqua terribile, non gli è andato a malerare. Proprio no, in questo caso no. Anche altri casi sì. Dai, è stata gentilissima. Grazie.